buongiorno a tutti siamo qui a tunisi alla gulet da croceristi siamo appena scesi da msc grandiosa dove troverete anche il video sul canale dedicato e niente oggi abbiamo ci siamo affidati nelle mani di una guida turistica che ci porterà a vedere diverse cose belle e carine qui in questa città andiamo insieme come sempre seguiteci ciao grazie allora siamo appena arrivati al paesino di siti bu Said ora visiteremo insieme il villaggio venite con noi Valentina allora adesso siamo per entrare nel palazzo qui alle nostre spalle questo splendido palazzo con nome impronunciabile vi lasciamo qui il nome e andiamo a scoprirlo all'interno venite con noi ciao 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 eccoci qua dopo la vista del palazzo ora faremo un giro per per i mercatini del villaggio venite con me eccoci qua eccoci qua allora questa è la nostra spalle è la maschera di cartagini mostra un po' ai nostri amici valentina l'ultima tappa dell'escursione di oggi la medina ok tra poco entriamo vieni con noi eccoci qua ciao eccoci qua 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 la nostra escursione termina qui spero che il video vi sia piaciuto e sul canale trovate altri video della msc grandiosa msc esperienza yacht club e tanti tanti altri nostri viaggi grazie grazie sempre per il vostro tempo ciao